Amici del web, ci siamo, buonasera, come promesso inizia questa lunga serie di trasmissioni di Polifemo filo diretto con la città, Taranto senza Ilva e la Mission e il valore pregnante, il significato di questo movimento d'opinione che è nato insieme all'amico e collega qui al mio fianco, Vanni Ninni, che salutiamo. Buonasera, affronteremo i temi, le emergenze della vita cittadina, quotidiana, settimanale, avendo però sempre questo punto di riferimento, questa stella polare, questa stella cometa che è una Taranto che si affranchì dal mostro. Ogni sforzo che si può fare viene miseramente vanificato, umiliato, offeso, oltraggiato dalla presenza di questo strumento di morte, di questo strumento di tumori. Io, Vanni, ora si sta tanto giustamente, per carità, pensando a Taranto, capitale italiana della cultura, benvenga, però attenzione, come dice il titolo che abbiamo messo su Facebook, non vi può essere cultura, non vi può essere vita, fin quando si ha questo mostro. E allora non vorrei, non vorrei che, alla fine, questo parlare sempre e comunque dalla mattina fino alla sera, come è giusto che sia, benvenga, lo sottolineiamo, nessuno dice no a Taranto capitale della cultura, per carità, però non vorremmo che poi questa tanta enfasi di Taranto capitale della cultura diventasse, come dire, un elemento distrattore per, come si suol dire, mettere la polvere sotto il tappeto, ubriacarci di questa candidatura a capitale italiana della cultura e poi ci distraiamo, non vediamo quello che è il male dei mali, non vogliamo la polvere sotto il tappeto. Allora sì, prima di entrare nel merito di quello che è il tema odierno, penso che proprio relativo al fatto che fra una settimana c'è la decisione del governo italiano su quale città essere nominata capitale della cultura italiana per il 2022, perché ricordiamo che per il 2021 è stata procrastinata la candidatura di Parma, perché per il 2020 non ha potuto soffrire della giusta… Bandita, esperto della TV, ti consiglio di spostare il nostro microfonino, il bello della diretta, ecco, perfetto, così avrà una maggiore… anzi, mettilo qui che si vede ancora meglio. Beh, non è che si deve vedere, si deve sentire, visto che… Si sente meglio, ecco, spostalo qui, è bello fare una cosa, come dire, genuina, perché noi non abbiamo finanziamenti pubblici, non stiamo nelle grazie di chissà chi. No, lo facciamo assolutamente a livello così disinteressato senza nessun ritorno economico. Allora, il discorso finale qual è della capitale italiana della cultura? Riepilogando, settimana prossima ci sarà questa decisione. Taranto è una delle dieci candidate e molto probabilmente sarà anche nominata capitale della cultura italiana per il 2022. Però, qual è il ritorno? Da un punto di vista economico non c'è, perché parliamo di appena un milione di euro come ristoro economico per la vincente di questo titolo e sapete benissimo che con un milione per una città come Taranto grandi cambiamenti non se ne possono fare. Noi abbiamo in ballo con il CIS addirittura un miliardo, quindi mille milioni di euro. Ma quello è il fumo che spara il sottosegretario Conte? Il discorso fondamentale qual è? Questa città ha bisogno, ha necessità di un grande cambiamento, di un cambiamento epocale che è previsto anche per quello che il Covid ci sta insegnando in tutto il mondo. C'è necessità di voltare pagina, non si può più continuare ad avere le industrie impattanti come una volta. La salute è sicuramente un valore prioritario, primario rispetto all'economia, tant'è vero che abbiamo visto che nell'ultimo anno è stata bloccata completamente l'economia rispetto a quello che era il discorso della salute che è diventata prioritaria. Per Taranto si è nell'impasse, sembra che si stia aspettando qualcosa, non si capisce bene cosa ed è quello che vogliamo capire insieme ai nostri ascoltatori. Vanni, volevo leggere alcuni messaggi, incominciamo dal primo, scorre un po' il coso. Lo vediamo dall'inizio, ma a chi è che venne la brillante idea di aprire ILVA a Taranto? Vanni, tu che sei uno storico. Mi piace ricordare che io penso che leggendo il passato noi possiamo vivere bene il presente e progettare il futuro, quindi è importante capire il passato. L'ILVA viene aperta molto probabilmente da un unico grande statista che noi abbiamo avuto a Taranto, Tarantino, perché anche se nacque a Maglie era Tarantino perché a sei anni venne a vivere a Taranto e ci rimase ultimando gli studi superiori al liceo Archita in Piazza Caribaldi. Parliamo di Aldomuro. Aldomuro fu uno degli artefici della venuta dell'ILVA a Taranto, era ovviamente il piano Marshall che aveva fatto tanti investimenti al nord, prevedeva qualcosa per il sud. Quindi arriva questa industria che è un'industria già di seconda mano perché viene montata con pezzi che arrivavano già montati e smontati in America, quindi arriva già un'industria di seconda mano e attraverso degli accordi con la CECA, Comunità Economica Carbone e Acciaio, ancora non c'era l'Europa all'epoca, si impianta nel 1961 a Taranto con la visione che dovesse durare 30 anni, perché dopo 30 anni un'acciaieria del genere non era più competitiva, gli impianti sarebbero stati talmente obsoleti che bisognava riconvertire il tutto, cosa che effettivamente poi avviene. Penso di aver risposto a questa domanda. Quello che io voglio dire è un momentino, all'epoca qualcuno poteva anche accettare il compromesso vergognoso ma qualcuno lo accettava e si diceva beh però abbiamo 40, con i Talzider noi sfamiamo 40.000 famiglie, 40.000 persone, ora non più, ora a stento 6.000, 7.000 persone lavorano nello stabilimento, altre 3.000, 4.000 sono in cassa integrazione, ma lo volete capire o no che questa fabbrica è maledettamente anti-economica, è una zavorra, è un cancro innanzitutto per lo Stato, che si carica cifre, cifre, cifre sul proprio groppone per avere che cosa? Per dare che cosa? Allora occorre chiudere, smantellare, bonificare, solo per smantellare ci sono 30 anni di lavoro, nessun operaio dell'Ilva perderebbe un euro, un centesimo. Altre affermazioni, altri commenti leggiamo, avevo letto, beh sì, ecco, il finale sarà Ilva aperta e inquinamento a go go, ma all'amico ambientalista Giuseppe Lomartiri, io dico dipende solo da noi, perché se noi vogliamo continuare a subire e a rassegnarci, ci rassegniamo, qui noi nella nostra pochezza e nella nostra piccolezza diamo uno strumento per creare un futuro diverso, un futuro di Taranto senza Ilva, non le stronzate che dice Emiliano, non le stronzate sulla decarbonizzazione, sulla produzione ad idrogeno, sono falsità che dice Emiliano per distrarre l'attenzione dei tarantini, perché la verità è che Emiliano vuole che ci sia l'Ilva, che l'Ilva continui a produrre, allora Emiliano, quando dici che non vuoi l'Ilva, dillo apertamente, non ti mascherare dietro la decarbonizzazione, lo stesso ministro Patoanelli, ministro dello sviluppo economico, ha detto, signori cari, non c'è produzione di acciaio senza carbone, si potrà inquinare di meno, ma si continuerà a inquinare. Allora, in effetti, c'è Michele Di Serio che dice, rendetevi, siete circondati, noi o loro? Noi o loro, io penso che non ci sia un noi o loro. No, no, noi che stiamo conducendo, o penso, la grande industria. Scorriamo perché sono tanti e ci fa piacere. Nella stessa barca, però, Maurizio Barnaba? Permettimi, vorrei tornare un attimo al fatto di dire che, mentre quello di cui parliamo, 42 mila posti di lavoro, erano delle royalties, dei ristori, che erano stati concordati con chi, in effetti abbiamo detto che volle lì il vattardo, che era Aldo Moro, e per 30 anni ci sono stati 42 mila posti di lavoro. Oggi la domanda è a chi conviene tenere ancora l'Ilva in questa città? Ai politici che fanno i cazzi propri, a quei sindacati che fanno i cazzi propri, scusate la volgarità, a questa gente serve l'Ilva. Perché Little Cedar, l'Ilva e Arcelor Mittal lo dice, non io che sono l'ultimo cretino della terra, ma lo dice l'inchiesta Ambiente Svenduto, le porcate che si facevano con l'Italcider e con l'Ilva. Allora, non c'è cultura finché c'è, non si vuole fine all'emergenza sanitaria che dura da 60 anni. Mi sembra scontato. Allora, 60 anni fa si viene aperta l'Ilva, però ci mette del tempo il territorio a saturarsi. Il problema di Taranto oggi è che è un territorio saturo di veleni, quindi quando si va a parlare di limiti di accettabilità, un milionesimo di nanogrammo, se lo vai a mettere in un territorio vergine dove non c'è alcun tipo di inquinamento, ha un certo impatto, se lo vai a fare in un territorio come Taranto, è come un vaso colmo di acqua, basta una goccia per farla traboccare. Vanni, scorriamo, non andiamo, scendi, scendi, Maurizio Barra, Toni Parente sono d'accordo, santi parole, Vincenzo Falco sono perfettamente d'accordo, Zazza Leonardo, Zazza Leonardo è un grandissimo vignettista che ha Taranto nel cuore, che combatte l'inquinamento, l'ilva, il mostro senza sé e senza male. Vediamo cosa dice. Ma se tutte le forze politiche non vogliono la chiusura del siderurgico per interessi di poltrona e di potere, noi a chi ci attacchiamo? Beh, io penso che a questo punto la cittadinanza attiva, la partecipazione attiva della cittadinanza, ha un grande valore che va ben oltre il discorso partitico e politico. c'è una legge fondamentale dello Stato italiano che va rispettata ed è la Costituzione, è il Vangelo delle leggi e a Taranto questa Costituzione non viene più rispettata ormai da anni. La colpa è dei baressi, beh, anche questo è vero, perché i baressi, chiaramente, e a questo io mi collego anche sulla questione di Taranto, capitale italiana della cultura. Si è detto Bari corre per questo riconoscimento, Taranto pure, però c'è una sorta di alleanza tra Taranto e Bari e si dice chiunque vincerà, se vincerà Taranto comunque Bari avrà la sua visibilità ugualmente come centro, come città capitale di cultura e idem se o vince Bari o vince Taranto scambievolmente si darà spazio al territorio per dentro. Allora, Johnny, ecco, perdonami, Vanni, i baressi ci daranno se mai loro dovessero vincere le briciole, i baressi se vogliono così come Brindisi, ma parliamo di Bari, ci dessero l'aeroporto, non le favole, l'aeroporto, i voli civili, dall'arlotta di Grottaglie, così si fa turismo, non con le favole, non con le finti alleanze di De Caro. Allora, stiamo leggendo questa interessantissima osservazione di No, no, siamo arrivati a Gianni, Jesse, Antofrasch, ma non perde due milioni di euro al giorno da quanto li perde e chissà quante sovvenzioni sono state date e non capiremo mai cosa c'è dietro, è semplicissimo quello che c'è dietro, è vero. Allora, l'ILVA oggi di tardo perde 50 milioni al mese che moltiplicato 12 mesi l'anno sono appena 600 milioni. Poi moltiplica per gli anni? Però 600 milioni di euro anche andando in perdita per lo Stato italiano senza produrre, perché qual è il ritorno dello Stato italiano? avere un'acciaieria di Stato, dare la possibilità di essere nel G7 e di avere un certo PIL. Ecco il motivo per cui qualsiasi governo difende a spada tratta l'ILVA. Ma signori miei, dopo 60 anni andatemelo a fare dove volete, ovunque, tranne che a Taro. Il ministro Patuanelli ha detto com'è bello il cielo di Trieste senza inquinamento. Beh, lui triestino... Patuanelli di Trieste, sì, ma noi abbiamo dato anche una grande mare, abbiamo gemellato gli sforzi perché la ferriera di Trieste dopo 100 anni è realmente uno scandalo all'interno della città. Ma tenete presente una cosa, Trieste è sempre stata negli ultimi decenni ai primi posti delle città più vidibili d'Italia. Trieste, Taranto agli ultimi posti. Andiamo avanti? Allora, continuiamo a leggere e troviamo Nicola Semerarodi, la colpa è di Badesi, poi ancora Francesco perché c'entrano compagni di merenda che c'entra compagni di merenda. Andiamo avanti, Francesco, verta fuori tutti questi massoni è vero, c'è una massoneria a Taranto molto pericolosa che è una massoneria deviata che può in un certo qual modo detiene i poteri forti e io dico che il nostro destino è nelle nostre mani. Se pensate che qualcuno di noi può andarsi a fare un RX può trovarsi qualche brutta sorpresa ai polmoni penso che la risposta sia scontata. Giuseppe Lomartire Luigi fino a quando la popolazione non si ribellerà a questa situazione non si verrà a capo di niente giorno 19 la procura si esprimerà sul processo ambiente svenduto io credo che ci faremo una bella risata. i tarantini devono imparare a scendere in piazza i tarantini devono imparare ad andare ora che le restrizioni covid a fine anno speriamo nel vaccino in quant'altro finiranno bisogna andare sotto palazzo Chigi dove questi ministri pagliacci stanno svendendo Taranto questa è la rabbia Marco Mangarelli Taranto senza IVA e Abate sindaco senza se e senza ma potrebbe anche accadere Francesco e Paolo Perrone bravo poi abbiamo Tony Parente Taranto dovrebbe creare una provincia unica con Matera a cui serviamo molto e avremmo l'attenzione che meritiamo non è sbagliato il discorso io su Matera perché Matera ho affrontato molto sono sceso molto nel dettaglio di cosa è Matera per Taranto anche la parola stessa le parole sono importanti Matera viene da due parole compose oltre a essere Mater quindi madre è una delle dieci città più antiche del mondo ma Matera è composta dai suffissi Mat ed Era Matapontum e Raclea che erano due città satellite di Taranto se Matera è una delle città delle dieci città più antiche del mondo quindi con una cultura enorme nel 2019 giustamente capitale europea della cultura Taranto che è madre di Matera che le fornisce le due città satellite che la vanno ad abitare che cos'è? ha una storia come vedete ho voluto Vanni in questo progetto perché è una persona di grande cultura ha una grande conoscenza storica e quindi noi siamo innanzitutto le nostre radici bravissimo allora Stefano Frascaro manca il senso civico è evoluto a volte è evoluto perché lasciare una città nello stato in cui è stata lasciata Taranto è ovvio che una minoranza di persone incivili prende il sopravvento Taranto andrebbe abitata da centinaia di migliaia di persone essersi ridotti negli ultimi 30 anni da 300.000 a 190.000 ha creato dei problemi enormi allora quando qualcuno di io ho voluto provocatoriamente nel titolo scrivere Taranto oggi con questa realtà dell'ILVA è la capitale dei tumori ed è la capitale della morte Taranto se vuole diventare la capitale della vita e la capitale della cultura deve eliminare questo mostro poi nel prosieguo della puntata delle altre puntate a venire perché noi andremo qui su facebook nelle dirette il lunedì e il giovedì magari anche altri giorni ancora ma presenteremo un piano per far capire come questa città proposte concrete non più parole perché il cittadino sapete cosa dice e ha anche ragione noi diamo le risposte tradotto se chiude l'ILVA dove andiamo a lavorare allora nessuno abbiamo detto perde il posto di lavoro lo racconteremo però c'è da dire una cosa dico anche un'altra cosa se mi viene un tumore caro signor X io dove mi vado a curare a casa tua ma giusto per affrontare l'argomento poi a ragione veduta con il giusto tempo di disposizione giusto per dare una risposta immediata ma se noi pensiamo che nel 2012 quando esplosa la rabbia dei Tarantini quando la maggior parte dei Tarantini hanno preso coscienza che le cose così non potessero più andare avanti ma fino al 2012 questa città non aveva né salute né economia non è che è successo il problema vedete nel simbolo che sta alle nostre spalle che è il logo del movimento d'opinione che ho fatto registrare e che è stato approvato anche dal MISE c'è la scritta Taranto senza ILVA e ci sono due simboli di Taranto la T come colonna dorica e vedete nella O c'è racchiuso il delfino il mare questa è la vera natura è la vera vocazione di Taranto non l'acciaio poi fra un po' prenderemo anche parleremo dello spot di Taranto capitale della cultura dove purtroppo devo dirlo si è ancora una volta identificata Taranto con la la città operaia schiava del mostro ma ne parleremo fra un po' leggiamo allora Tony Parenti dice a cominciare dall'aeroporto e sul porto che non hanno andiamo avanti Isaia De Punzio l'unione fa la forza poi ancora Francesco Paolo Perrone allora Ginosa Marina dal mio comune non immaginate come fa male vedere dalla spiaggia in lontananza le ciminiere con gli scarichi industriali ma quando arriverà il giorno in cui il popolo avrà le palle di scendere in piazza e farla pagare a questi luridi quando Taranto avrà una classe politica che è in grado di mettersi a capo della cittadinanza un sindaco un presidente della regione che fanno gli atti conseguenziali significa firmare le ordinanze di chiusura allora a questo punto la città si sentirà rappresentata e guidata per la chiusura dell'ILVA Tony Parente dice complimenti grazie dell'escursione storica dell'isola grande amministrazione grande ammirazione per Luigi Abate unico giornalista tarantino a sbattere in faccia la realtà di Taranto al presidente Conte saluti da Ravenna io sono un modesto giornalista e un modesto cittadino a Conte ho detto in faccia a quello che pensavo mi dispiace che qualche collega giornalista abbia definito pagliacciata la mia rabbia l'aver spiattellato in faccia a Conte la verità anche perché devo anche dire una cosa per quanto riguarda Conte vedo ho visto il sindaco il governatore quando viene Conte a Taranto c'è una unità di intenti c'è una reverenza quasi poi giustamente il sindaco dice il governo ci ha abbandonato su questo sono d'accordo con il sindaco però sindaco io la invito a prendere in senso politico non in senso metaforico politicamente a calci del culo Conte e i ministri che vengono a Taranto non in senso fisico in senso così come dire come metafora mandarli a quel paese prendere la porta di palazzo di città e sbattergliela in faccia in questo senso nessuna violenza massimo rispetto per le istituzioni io rispetto il presidente della repubblica il capo del governo i ministri l'istituzione repubblicana per la quale gli italiani i nostri padri hanno versato il sangue ma schifo questi uomini che ci rappresentano al governo dell'Italia e che stanno uccidendo Taranto mi fanno schifo Oreste dell'isola che ci segue da Ravenna all'amico Oreste dell'isola gli chiediamo anche visto che Ravenna è già stata capitale italiana della cultura quindi gli chiediamo anche di darci dei riscontri se ci sono avute se ci sono avute delle delle positività da questa nomina o è una gattopardata è soltanto un titolo fine a se stesso che non serve a nulla visto che Ravenna lo è già stato lui è Maurizio Barnaba Maurizio Barnaba scrive a parte lì ma penso che anche lei faccia la sua parte comunque purtroppo certamente assolutamente sì Eni e Dilva fanno parte di quel polo industriale che messo insieme è come avere fiamme e gas insieme una miscela esplosiva è una miscela talmente esplosiva vi ricordo che pochi giorni fa c'è stato anche il processo che ha per prescrizione dei termini per quello che successe a lo scoppio del treno lì in Toscana adesso ricordami il posto preciso praticamente hanno prescritto tutto quindi questo eccidio di 37 persone che ha avuto avuto che ha dato a dato che da quando successe Seveso non sarebbe mai più dovuto succedere è stato completamente azzerato ma ci siamo mai chiesti se dovesse succedere a Tarto dove al di là delle prescrizioni dell'AIA noi ci sono delle prescrizioni profonde perché Tanto è una città in cui esistono delle realtà industriali che ricadono nel piano di emergenza esterno il piano di emergenza esterno esiste ma è fatto su delle autocertificazioni autodichiarazioni delle due aziende che non corrispondono che non corrispondono a quello che è assolutamente previsto nell'ultima legge la 105 nel 2015 la cosiddetta la legge che recepisce la cosiddetta serie interna dell'Europa più volte è stato fatto presente al prefetto l'unico problema è che i prefetti ogni due anni cambiano e quando iniziano a mettere il dito lì dove la piaga duole purtroppo i prefetti vanno in un'area rimane una città che dovrebbe lamentarsi e dovrebbe pretendere di sapere oggi se dovesse succedere che vede una nuvoletta nell'aria l'abitante che abita a Viale Magna Grecia piuttosto che a Corso Umberto piuttosto che sui tamburi o a Tramontone che cosa deve fare deve rimanere a casa farmi determinare Luigi perché è importante o deve mettere dove esistono due aziende come Eni ed Ilva questo basterebbe per dare la possibilità a qualunque prefetto per chiudere immediatamente impianti sia di Eni che di Ilva che non rispettano la legge c'è da dire a questo punto che più di qualcuno proprio oggi il signor Carruggi se non erro mi diceva ma quando parlerai di Eni perché parli solo di Ilva l'Eni è un cancro signor Carruggi come l'Ilva approfondiremo andremo andremo a fondo perché non credete quando si passa davanti a Eni quando si passa davanti a Eni si sente un odore nauseabondo una puzza incredibile allora io mi domando se io che transito 5 minuti 3 minuti sono ammorbato coloro i quali lavorano in pianta stabile e stanno almeno 8 ore al giorno che fine fanno quali patologie contraggono sull'Eni accenderemo i fari è come se non bastasse a dimostrazione di quanto sia davvero pagliaccio politicamente parlando il presidente Conte l'area Matera la terza diciamo l'area laertina per capirci di la terza è uno dei siti indicati per stoccare per raccogliere i rifiuti nucleari non bastava la Cemerad a Statte che da 20 anni sta così con i fusti radioattivi di Cernobil ma prima di allargarci perché avremo tempo per allargarci ma dico come si fa a dire che il presidente del consiglio vuole bene a Taranto quando a Taranto che già c'ha l'Ilva già c'ha l'Eni ci dà pure i rifiuti i rifiuti mortali radioattivi continuerei anche a fare corretta informazione visto che c'è stato dato lo spunto da quello che voi ci scrivete su queste pagine di chat sul fatto giustamente come dice Luigi che passando davanti all'Ene si sente questo odore naso e abondo che molto spesso arriva in città bene sappiate che degli oltre 200 veleni che vengono emessi dall'area industriale di Taranto la maggior parte sono in odori in sapori e in colori e vengono assorbiti specialmente dei più deboli dei più piccoli e chi ci lavora è la tutela del lavoratore dove finisce perché al paese lo ripeto se io passo e vengo ammorbato 5 minuti chi lavora 8 ore quale colpa quale pena quale strazio quale supplizio deve subire allora i tarantini non faranno nulla stanno bene in poltrona e quindi Taranto ecco perché deve diventare un bene dell'intera umanità perché è talmente grande la valenza di una città come Taranto per l'intera umanità che se la lasciamo solo in mano a quei pochi tarantini rimasti non andremo da nessuna parte l'informazione ci deve consentire di richiamare i tanti tarantini che sono andati fuori sede e che hanno questa città nel loro cuore ma soprattutto deve essere un bene dell'intera umanità quando io parlo non voglio essere presuntuoso ma io faccio da vent'anni le mie battaglie contro l'ilva e faccio le battaglie da quando Archinà era un Gesù Cristo in terra a Taranto non dimenticate che il sottoscritto Luigi Abbate che sta qui davanti a voi ha perso il posto di lavoro a Bluestar per aver denunciato quello che accadeva nell'ilva fatto fuori dalla politica Isairo De Puzio dice dai Luigi sei il migliore Bontassola penso che questi commenti facciano bene nel momento in cui è importante avere l'appoggio e il sostegno l'apprezzamento morale perché è importante in questo caso non sentirsi come vogliono far capire che i cittadini sono disgregati sono uno contro l'altro assolutamente non è così le idee chiare ci sono persone che hanno una visione del futuro dei Taranto radiosa meravigliosa bisogna essere determinati e portare avanti e far capire a chi ha dubbi così cancellare ecco smascherare certe false notizie che si danno in giro scendiamo Antonio Lizzardi Carelli grande Luigi senza padroni Taranto Libera questa è una frase Taranto Libera che mi è rimasta nel cuore a partire dalle prime azioni che già dal 2012 si facevano e da una canzone quando c'erano caro Vanni gli ambientalisti veri perché ora vediamo pezzi dell'ambientalismo Tarantino che si sono schierati candidamente a sinistra che non sono più per la chiusura dell'Ilva perché quando vedo ambientalisti Tarantini candidati alla regione con Emiliano e col PD vuol dire che sono dei finti ambientalisti perché non vogliono l'Ilva chiusa perché Emiliano non vuole l'Ilva chiusa siamo avanti Conte è un massone Isaia De Punzio hai fatto bene lo dovevi sputare no Isaia De Punzio se il migliore abbatte Luigi Antonio scendiamo vediamo un po' che dice Antonio ecco Antonio Lizard Carelli Conte è un massone gesto intercriminale ovviamente ognuno si prende la responsabilità di quello che dice Tapp e Ilva criminali prossimo Isaia De Punzio Luigi facciamo un corteo e cosa possiamo fare scendiamo noi in piazza facciamo un pull mandiamo a Roma questo sì questo lo faremo non appena lo autofinanzierò se nel caso e se non appena chiaramente le restrizioni covid ci permetteranno di poter andare a Roma allora Francesco Alfieri ti chiede perché non riesce a rispondere alla tua domanda e penso che dovrebbe chiederlo a Conte o a chi si riferisce Isaia De Punzio onore a Luigi Abate vediamo ancora sono veramente tanti i commenti e facciamo fatica a leggerli ma li leggeremo tutti poi anzi ma tanto viene pubblicata la puntata ma certo vi invitiamo anche a commentare quando la puntata sarà finita perché i temi che abbiamo tirato fuori sono talmente tanti abbiamo bisogno anche di sentire come la pensate e ma oltre a questo li andremo a riaffrontare poi nella prossima puntata che faremo quindi andremo a rileggere tutto e ci sarà un continuo perché non finisce qui allora ancora onore a Luigi Abate Maurizio Manna se Taranto diventa capitale della cultura dovrebbero chiudere subito l'Ilva ovvio allora Isaia De Punzio grande Luigi Abate poi abbiamo onore a Luigi Abate e ti stimo da parte di Isaia Meri Albano grande Luigi quel video definito promozione di Taranto candidata alla cultura ribadiamo sempre che non è la cultura europea ma è cultura italiana è uno schiaffo al dolore e l'ennesimo sfottò in effetti è un po' triste questo video ci torniamo si ci torniamo perché voglio fare chiarezza finiamo il pensiero di Meri Albano Vigliacchi sanno benissimo che non vogliamo quel mostro che semina a morte quel formulo creatore altro che cultura queste immagini sono state studiate messe di proposito altrimenti non si spiega un vero e proprio spot vergogna Federica non è stata ancora tumulata Federica è la bambina Federica Gison Gison non è stata di cinque anni tumore e covid ma il covid è stato l'atto finale della patologia allora è ovvio che il covid la botta finale va a prendere in primis le persone che sono più debili quindi ancora maggiore e continuare a tenere un'azienda così impattante sul territorio dove già ci sono problematiche gravi gravissime poi su un fatto del covid giusto ci tornerò un attimo vergogna Federica non è stata ancora e la figlia e ci tirano fuori ci vediamo un po' quella e ci tirano fuori questo aborto di video perché un attimo perché io come tarantina mi sento lesa quelle immagini devono essere tolte quel video deve essere rifatto oltre l'insulto mi chiedo con quale criterio vengono fatti questi contratti perché uno di Bari deve fare un video così importante su TAR la somma pagata a sta gente ho letto è abbastanza andiamo avanti andiamo avanti sì sì ci bisogna di sì è un video un posto molto taranto ha tantissimo per candidare alla cultura mettono immagini prese a casaccio prese ma non vorrei pensare male ma bisogna occupare quella fabbrica allora andiamo al tema del video allora io faccio una premessa è giusto era giusto ed è giusto pubblicizzare che ci fosse un video che promuovesse Taranto capitale della cultura io dico anche che i gusti sono soggettivi perché tante volte voi pensate al festival di Sanremo vince una canzone uno dice ma proprio quella ha vinto non mi dice niente quella canzone io ho voluto ho visto e rivisto il video di Taranto capitale della cultura massimo rispetto per la proforma però se devo esprimere un mio giudizio è un giudizio contenutisticamente e qualitativamente con riferimento al video negativo perché perché si dà un immagine intanto c'è un un tono greve un tono triste vedere tutti questi cittadini che vanno all'ILVA vanno a lavorare all'Italzider sembrano quasi dei deportati di Auschwitz con questi colori anche molto ma molto sciapiti colori pesanti colori non vivaci e poi viva Dio signori di proforma massimo rispetto per voi siamo colleghi perché io me ne intendo di comunicazione è il mio lavoro aveste avuto almeno così il barlume di mettere una bella immagine della storia di Taranto del patrimonio archeologico del patrimonio culturale del Martà abbiamo avuto gli attori la bambina che si mostrava dinanzi al bambino di fronte e poi sempre queste maledette immagini dell'ILVA gli operai che entrano nell'ILVA il pullman che porta i lavoratori dell'ILVA ma questa città è solo ILVA è solo Italzider vogliamo diventare capitale della cultura inneggiando all'ILVA questa maledetta fabbrica mortale rispetto per la proforma ma io avrei fatto in maniera completamente diversa avrei messo immagini molte più immagini di mare turismo matrimonio archeologico tradizioni scusate mi faceva vedere Vanni prima di andare in onda il video di promozione capitale della cultura della Grecia tarantina che ha fatto corpo unico con Taranto un video bellissimo che faceva vedere la storia le tradizioni la cultura locale di quel segmento di territorio ma che spinge soprattutto la gente ad arrivare in un territorio dove trova gioia e felicità non in un territorio dove trova lacrime sangue anche quando io dico lacrime sangue è una cosa brutta perché si dà un'immagine posso dirlo alla Tarantina maniera quel video sapete che mi sembrava un pianto della Maddalena il pianto della Maddalena che andava appunto a raccogliere a vedere il corpo morto di Cristo di suo figlio ora al di là di questo lo ripeto io la prossima volta ecco questo è un suggerimento perché io voglio essere propositivo costruttivo non voglio soltanto distruggere se non sembra che uno non voglia Taranto capitale della cultura non voglia gli spot no io dico sindaco la prossima volta facciamo una bella cosa facciamo una lanciamo un bando facciamo un bando e apriamo facciamo un concorso di idee ecco apriamo a tutti i professionisti e non solo che presentano dei video per promuovere il territorio poi una commissione di soggetti qualificati sceglie il video migliore probabilmente risparmieremmo perché questa questo spot è costato 73 mila euro ma al di là per me è una cifra molto elevata ma al di là di questo cioè io non forse perché la proforma è un'azienda che chiaramente essendo barese è stradia rispetto al tessuto sociale storico culturale tarantino cioè ha preso una cantonata la proforma la proforma ha fatto vedere l'ilva cosa c'entra che significato qual è la cultura di tarla la cultura della schiavitù quindi la prossima volta io l'appello veramente sincero che faccio all'amministrazione comunale e dico raccogliamo i migliori video fatti ovviamente da professionisti non il video fai da te di chi vuole passare il tempo ma avremmo dato un risultato di gran lunga migliore spendendo molto ma molto di meno questo è il mio pensiero su questo perché l'immagine di dire lacrime sudore cioè sembra una taranto sofferente sembra non lo so la capitale della sofferenza Cosimo ti sei anche mantenuto perché Cosimo Rusciano da Milano addirittura dice è una marcia funebre ha il tono infatti se uno non sapesse andrebbe benissimo andrebbe benissimo per per esempio per i riti della settimana santa che hanno chiaramente un tono ovviamente molto molto funebre quindi voglio dire ma questa è la cosa che mi ha mi ha dato fastidio ripeto la prossima volta io l'appello che faccio facciamo un video facciamo un video che effettivamente esprima Taranto la pro forma evidentemente non è una realtà che conosce Taranto perché la pro forma professionisti serissimi nulla da dire ma loro lavorano ovunque con chiunque e quindi chiaramente non hanno il contatto diretto con Taranto così come se a me venisse commissionato un video su Bari capitale della cultura io probabilmente farei un video mediocre perché io non conosco la realtà di Bari e viceversa la pro forma non conosce la realtà di Taranto essendo barese allora vanni allora Luigi sembra che commenti su adesso abbiamo zero visualizzazione in questo momento che è assolutamente impossibile o è successo qualcosa con Facebook visto che in America abbiamo visto che da un momento all'altro sembra che siamo in diretta non so che problema tecnico c'è da un punto di vista di commenti di contatti zero ci risultano e i commenti sono bloccati all'ultimo commento che abbiamo che abbiamo letto si è succedendo certamente non siamo Trump grazie a di voi sicura e vabbè non penso che scatterà l'impeachment no? non credo comunque io penso che come prima puntata ci sarà stato qualche disguido tecnico che ha bloccato perché da quel che mi pare noi siamo in diretta mi pare sono i commenti che non riescono più a divarci un momento di sosta anche di sovraccarico delle linee perché è un momento di trasformazione comunque quindi torniamo al discorso forse ci siamo di nuovo forse è ritornato vediamo d'altronde vedo che ci sono commenti esatto sono commenti allora cerchiamo di riprendere un po' da dove ci eravamo fermati è difficile con tutti questi commenti sì beh già è tanto che non è non è scattato nei miei confronti l'articolo 25 quello dell'impeachment ma lì stiamo negli Stati Uniti non e poi abbiamo detto la verità non abbiamo fatto l'assalto al Campidoglio negli Stati Uniti abbiamo soltanto detto quello che anche se Antonio Lizzard Carelli ci invita bisogna occupare occupare non in senso ovviamente così allora e quindi andiamo avanti ci sono ancora questi commenti che abbiamo già letto mi pare basta chiacchiere ci invitano ecco Marco Mangarelli tranquilli avremo l'acciaio green e la produzione andiamo un po' indietro ad idrogeno e questi continueranno a prenderci per i fondelli qui dobbiamo tirare fuori le pale ed andare in massa sotto la portineria Ilva il mio sogno la mia città senza inquinamento il mostro chiuso è un sindaco degno di questo nome e io che vivo a distanza soffro ogni volta che vedo queste porcate Taranto Libre Marco Mangarelli è un tarantino verace che vive che lavora in Romania ha dovuto lasciare la terra natia Taranto come tanti come tanti tantissimi per vivere per andare a guadagnare onestamente e dignitosamente l'augurio che faccio a Marco così come è lo stesso augurio che faccio ad altri miei concittadini i nostri concittadini sparsi per l'Italia e per il mondo è di riaverli qui a Taranto quando effettivamente la tarantinità possa davvero ritornerà e ritornare significa fare un progetto di una Taranto senza ilva di una Taranto che raccolga le migliori le migliori intelligenze e qui vedete non è una questione politica non è una questione vanni di centrodestra centrosinistra movimento cinque stelle no qui si tratta di difendere il bene primario che è il diritto alla vita Taranto senza ilva che alle spalle è un progetto di vita è un progetto di una Taranto diversa non è un simbolo di partito giusto per capirci Mirko Blu dice proprio rivoluzione allora rivoluzione nel vocabolario sulla Treccani se voi andate la parola rivoluzione equivale corrisponde al sinonimo di cambiamento è necessario un cambiamento quindi ben venga una rivoluzione che rivoluzioni e cambi volevo sentire qualcosa siccome vanni essendo rappresentante di un sindacato importante del appunto del mondo dello spettacolo e della cultura ecco vanni allora l'ultimo nato fra i sindacati in Italia è il sindacato Cisal Sax è un sindacato arte cultura e spettacolo non è uno di quei sindacati dell'ILVA giusto per capirci non fa parte no perché qualcuno può pensare allora l'idea di fare una proposta è di salvaguardare quelle che sono di proteggere quelle che sono le peculiarità che non sono le vere potenzialità di quelle che fanno di un territorio abitato da 60 milioni di abitanti che se pensiamo è una percentuale veramente infinitesimale rispetto agli 8 miliardi che abitano oggi il mondo ma che ha una grandissima tradizione di cultura di storia di creatività enorme e che non è mai stata utilizzata per potersi proporre per quello che effettivamente siamo nel mondo per quello che dobbiamo essere considerati allora l'idea è proprio questa non essere più non sentirsi più se si fa un lavoro come il cantante il dj un operatore dello spettacolo un tecnico luci come un dopolavorista ma come effettivamente una persona che ha una dignità di un lavoro che è quello che promuove il proprio territorio il nostro ed era quello che avevamo previsto quando insieme ad alcuni amici abbiamo proposto Taranto come capitale della cultura europea che è ben altro rispetto a quello della capitale italiana della cultura una visibilità enorme una grande chance che ha avuto Matera e che avrebbe potuto benissimo avere Taranto in questo significa che questo territorio deve avere la possibilità di avere una nuova attività quella di avere il custode del territorio che significa il custode del territorio è la persona che vuole bene al suo territorio la sua terra noi abbiamo tanti elementi un semplice muletto a secco che noi vediamo davanti ai nostri tutti i giorni ma che ha una tradizione enorme per qualsiasi abitante gli 8 miliardi di abitanti del pianeta è una di una bellezza incredibile di un valore enorme gli oltre 5 milioni di alberi di ulivo millenari che sono solo in Puglia quegli alberi hanno visto le guerre puniche hanno visto passare i filosofi hanno raccontano millenni e millenni di storia e per qualsiasi abitante 8 miliardi di abitanti del pianeta sono di un'importanza enorme e dove sono? sono in Italia sono in Puglia e queste cose sono a Taranto queste cose si dovevano far vedere questa è la nostra cultura queste cose dovevamo vedere nello spot di Taranto capitale della cultura non le lacrime sangue i tratturelli finispera non le lacrime sangue non i deportati sembravano dei deportati di Auschwitz quei poveri cristi dell'Italzider questo voglio ma lo dico con rabbia lo dico con amore perché io voglio che Taranto sia capitale della cultura ma ci tengo davvero perché è una vittoria della città a prescindere dai colori politici però caspita facciamo vedere le cose belle di Taranto che ci sono non i deportati dell'Ilva sembravano dei deportati di Auschwitz con immagini dell'epoca dei film luce dell'epoca mussoliniana andiamo avanti Vincenzo Falco credo che si possa organizzare una raccolta firma creare una class action sia contro il governo regionale che nazionale purtroppo nella class action come legge avevano escluso che potesse essere fatta proprio per reati ambientali ci stanno tantissime norme articoli della Costituzione che non vengono rispettati non c'è bisogno di fare una class action basta chiedere il rispetto delle leggi in primis della Costituzione ho preso dei contatti con il senatore Gianluigi Paragone che è un senatore indipendente quindi non è schierato né col centrodestra né col centrosinistra né col Movimento 5 Stelle e ci stiamo organizzando ora che ripeto speriamo presto speriamo dopo l'estate al massimo le restrizioni della pandemia ce lo consentiranno di andare in Senato e portare il dramma di Taranto davvero con il senatore Paragone con i rappresentanti i veri rappresentanti ambientalisti sui tavoli che contano sui tavoli di Roma perché la protesta che si fa a Taranto è giusta e sacrosanta ma bisogna andare nelle stanze romane e bisogna portare anche delle proposte concrete che siano attuabili allora George Orwell nel suo libro 1984 che scrive nel 1948 subito dopo la guerra la seconda guerra mondiale ipotizza il futuro e fa questo libro in cui ci coglie racconta quello che sarebbe successo dopo decenni e quello che stiamo subendo noi oggi trova anche una soluzione a questo malessere della società dice che raccontare la verità è rivoluzionario torniamo a quella parola rivoluzione è cambiamento abbiamo bisogno di un cambiamento come si può fare? raccontando la verità confrontandoci liberamente come dici tu spesso senza padroni senza padroni senza se e senza ma senza bavaglio senza bavaglio andiamo avanti e adesso ancora fermo il discorso dei commenti e quindi io scenderei proprio nel dettaglio di quello che è la nostra visione di portare delle proposte concrete ed è sulla nostra visione di quello che detto il motivo per cui l'ILVA debba chiudere non si può più accettare un'azienda che non si può più mettere a norme che anche se limitata al massimo nelle emissioni continuerebbe a avvelenare un territorio già saturo di mileni che ha bisogno di una pace di una tranquillità interiore per cui bisogna smettere assolutamente anche di far cadere un milionesimo di nanogrammi e mi collego riprendo il discorso dei siti tarantini che sono stati scelti guardate che bellezza che abbiamo ci daranno forse il titolo di capitale della cultura per darci il contentino e poi ci diranno vedete che avete un territorio in cui possiamo stoccare i rifiuti radioattivi allora io mi domandano sindaco di centrosinistra governo di centrosinistra ovviamente sostengono questo governo Conte sostengono Emiliano e non riesco a capire poi come faccia lo stesso Emiliano lo stesso sindaco poi a dire ma effettivamente questo governo ci sta abbandonando ci sta tradendo dobbiamo scendere in piazza anche i sindaci di centrosinistra allora vi state rendendo conto e state venendo al nostro discorso che abbiamo un governo criminale che sta condannando a morte Taranto cioè voi stessi che siete dello stesso orientamento politico del governo l'amministrazione comunale di Taranto di centrosinistra la regione Puglia di centrosinistra vabbè Emiliano ha fatto un mischia mischia di tutto di più ma al di là di questo state riconoscendo come questo governo italiano governo Conte sta uccidendo il territorio di Taranto e sull'Ilva si prendono decisioni sul nuovo sul nuovo assetto con ArcelorMittal e il territorio viene completamente bypassato il comune viene bypassato la regione viene bypassata arrivano i rifiuti radioattivi viene indicato il territorio di Taranto come sito per allocare i rifiuti radioattivi ma vi state rendendo conto di chi è Conte vi state rendendo conto di chi è Conte c'è uno che sta affossando che sta condannando a morte voi stessi di centrosinistra lo state dicendo perché se fosse il centrodestra a dirlo sarebbe anche scontato beh il centrodestra giustamente deve attaccare il premier ma quando è un sindaco di centrosinistra quando è un governatore di centrosinistra che riconosce come il governo italiano ha distrutto sta distruggendo dal punto di vista ambientale Taranto tanto da ribellarsi beh io penso caro Vanni che quello che noi stiamo dicendo questa sera per come dire amore di verità e per onestà intellettuale è il comune e la regione dovrebbero sottoscrivere beh vediamo cosa succederà se lo sottoscrivono meno e intanto Vincenzo Caruggio ecco signora che mi chiedeva dell'Eni lo abbiamo detto signor Caruggio Caruggio l'abbiamo detto poi c'è Carmelo Attolino il problema di Taranto sono i tarantini e soprattutto quello degli abitanti dei tamburi è vero i tarantini si devono svegliare ma io penso anche che la coscienza ambientalista stia crescendo il problema è un altro Vanni che finora varie forze ambientaliste o pseudotali perché l'ambientalismo io riconosco poche associazioni veramente ambientaliste a tale altre sono sono associazioni sinistrose e sinistrate che fanno politica col centro-sinistra tanto per capirci perché ripeto tanti rappresentanti ambientalisti alcuni erano candidati nelle liste di Emiliano che non vuole la chiusura dell'ILVA quindi dove siete ambientalisti voi a parole e quindi dicevo Vanni però ecco alla fine la cultura ambientalista diciamo sta crescendo la gente si sta rendendo conto e noi e l'errore di molti è stato che non si è mai prospettato un futuro un'ipotesi alternativa all'ILVA in termini di occupazione è quello che noi vogliamo presentare esatto ma non solo cioè lo vogliamo fare in maniera dettagliata parlando di una serie di attività e quindi nelle prossime vi invitiamo a seguirci perché nelle prossime trasmissioni proprio scenderemo nel dettaglio e vi renderemo partecipi di quella che è una visione per passare dai 10.800 attuali operai e impiegati dell'ILVA che non hanno possibilità di crescita ma anzi molto probabilmente saranno decurtati in maniera anche abbastanza massiva invece di replicare non nel mantenimento di questi posti di lavoro ma nel rilanciare quello che su un territorio grande come Taranto è necessario e quindi fammi arrivare al punto perché sono manca la parte principale prima di arrivare all'anticipazione volevo dire qual è l'obiettivo l'obiettivo è arrivare a da meno 10.800 a 50.000 posti di lavoro quando uno pensa che queste possono essere delle chiacchiere io vi rispondo in questa maniera ed è quello su cui approfondiremo nelle prossime trasmissioni ed è una notizia molto ma molto importante di cui ne avevamo già parlato da più di un anno a questa parte ma ora pare adesso abbiamo dei scontri molto concreti la persona più ricca del mondo oggi supera anche la ricchezza del proprietario di Amazon è Elon Musk Elon Musk è il proprietario della Tesla auto elettriche è arrivato a produrne così tante in America ha bisogno di nuove fabbriche perché il mercato in Europa ce l'ha già c'è questa visione europea di emissioni zero nel 2026 come mobilità ed è un qualcosa già di messo nero su bianco per cui c'è bisogno di auto che abbiano impatto zero le Tesla sono completamente auto elettriche emissione zero sono delle è un'azienda in notevole crescita Elon Musk attraverso il suo rappresentante per l'Italia che avremo nostro ospite ha la possibilità di intervenire di investire su Taranto con una grande fabbrica su Taranto dove realizzerebbe auto elettriche batterie elettriche e torniamo al discorso del bonus 110% non a caso c'è questo bonus che è stato già visto dall'Europa ed è stato riportato in Italia per consentire alle abitazioni di avere in buona sostanza Vanni questo colosso dell'industria mondiale lo possiamo anche accennare sarebbe disponibile a investire su Taranto sulla riconversione dell'Ilva e a posto di quel mostro di quelle acciaierie capannoni che producono noi potremmo avere delle produzioni a emissioni zero nulla aventi a che fare con la siderurgia mortale ma lo svilupperemo era giusto era giusto un accenno ci siamo anche documentati ci stiamo muovendo anche su vari fronti su fronte internazionale quindi proprio perché quando diciamo il nostro progetto di Taranto senza Ilva non è una chiacchiera vogliamo dare risposta alla signora Maria al signor Giovanni che giustamente ci dicono e se chiude l'Ilva che facciamo? Elon Musk può investire su Taranto veramente rivoluzionando gli aspetti industriali di questa città assolutamente rivoluzionando proprio veramente rivoltando come un calzino è la vera rivoluzione green e non l'acciaio green perché poi si chiamerà signori cari l'ennesima presa per il culo non si chiamerà più Arcelor Mittal ma si chiamerà siderurgia italiana verde o siderurgia italiana green perché devono mettere a tutti i costi la parola green verde fra poco può darsi pure che la direzione di Arcelor Mittal andranno con la vernice e la pitteranno verde e diranno questa è la nuova fabbrica il nuovo prato felice il prato verde per Taranto bene Vanni allora io direi che concludendo magari restiamo qualche altro minuto e poi potremmo anche giusto esatto per i cosiddetti titoli di coda ma per ricordare più che altro quello che abbiamo intenzione di fare questo contatto con voi che non si non termina qui con la fine della tradizione lunedì e giovedì saremo alle 19.30 Polifemo Filo diretto Taranto senza ilva ogni lunedì e ogni giovedì alle 21.30 vi invitiamo anche nello spazio che intercorre fra una trasmissione e l'altra a continuare a postare i vostri commenti perché saranno tutti quanti ripresi e saranno tema di discussione infatti ora salveremo la puntata la puntata ovviamente tra qualche minuto verrà pubblicata verrà condivisa e quindi quello che è e ora diciamo la diretta poi diventerà come dire un video di un'ora di una trasmissione e invitiamo anche tutti quanti voi a condividerla quanto più possibile perché diamo spazio a questa voce libera della città del territorio ma andiamo anche oltre qui Taranto è diventato veramente l'ombellico del mondo e da Taranto può veramente rinascere quella che è una visione nuova che in questo momento di rivoluzione di cambiamento chiamatela come volete è necessaria e in ogni caso noi siamo orgogliosi di essere Tarantini perché a Taranto ci sono le spoglie dei miei genitori a Taranto io ho la famiglia e non voglio assolutamente rinunciare alla mia città per questi mascalzoni di turno che finora hanno stuprato il territorio mi riferisco soprattutto a livello governativo noi non lo consentiremo noi ci batteremo in ogni modo in maniera civile democratica chiediamo il vostro supporto perché vedete non esistono uomini soli al comando esiste una città che deve rispondere che deve partecipare noi mettiamo a disposizione il nostro impegno la nostra buona volontà la professionalità i mezzi mediatici e poi se la città vuole deve decidere la città la città vuole vivere di mare di turismo di agricoltura di patrimonio archeologico di vita o la città vuole andare nelle chemioterapie del del moscati a fare la chemioterapia e la radioterapia perché quando in quello spot c'è scritto sudore lacrime io avrei aggiunto anche proprio dovendo dire la verità chemioterapia e radioterapia oltre al sudore no al sale purtroppo ma questo non perché perché amiamo Taranto perché bisogna dire il problema vedete questo fin quando noi non ci toglieremo l'ilva noi non potremo mai andare da nessuna parte e allora per concludere oggi è 11 il 14 o il 15 si dovrebbe il 18 il 18 fra una settimana benissimo noi ovviamente da Tarantini lo sottolineiamo e questo lo dico all'amministrazione comunale al sindaco ai consiglieri di maggioranza e di opposizione agli assessori noi tifiamo perché Taranto diventi capitale della cultura però attenzione cioè non vorremmo che questo titolo poi come dire fosse un'ubriacatura per dimenticare i veri problemi di Taranto e il male dei mali si chiama ilva Arcelor Mittal si chiamava Italsider quella maledetta Italsider perché oggi ci sono gli studi medici approfonditi all'epoca si buttava il sangue si crepava di tumore e tu neanche sapevi così ma lasciamoci con un'immagine c'è un ultimo Zazza Leonardo il nostro vignettista il nostro artista un uomo con le palle permettetelo Zazza Leonardo dice bravi sempre così ma lasciamoci con un'immagine anche positiva 2300 anni fa in questo territorio veniva uno dei più grandi filosofi del mondo Platone e venendo a Taranto realizza un libro e questo libro si chiamava La felicità ed è quello che vogliamo riportare su questo territorio insieme a voi per una Taranto senza Ilva buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti